Cari amici tifosi rossoneri e non solo, è finito il mercato la sessione stima. Il Milan non è riuscito a comprare il centrocampista che mancava purtroppo, perché c'è stato poco tempo per rimpiazzare Bonaventura. Ci voleva molto più tempo, non siamo riusciti a comprare nessuno, però possiamo tranquillamente giocare con Delufeo e Ocampus che possono rimpiazzare il nostro Bonaventura. Però da un lato mi dispiace perché mi aspettavo un mercato più, qualcosa in più a livello di mercato, il difensore che manca non è arrivato e questo mi dispiace. Insomma perché credevo si potesse fare un'operazione di almeno un prestito, però il tempo è stato poco e il Condor ha perso i suoi colpi. Si poteva prendere Cigarini, ma Cigarini non è arrivato. Si poteva prendere qualsiasi altro giocatore, l'importante che fosse nel ruolo che noi cercavamo. Purtroppo non è arrivato e un po' di pizzico di delusione c'è, però nello stesso tempo sono ottimista per quelli che abbiamo preso. E spero insomma che possano far bene alla nostra causa. Questo volevo dire. Un abbraccio a tutti i nostri sui cosi rossoneri, un saluto ad Andrea Tamaglione e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!